Ciao Come sappiamo sarà utilizzabile nella sua scheda Syndicate Non in cooperativa ma sarà sempre utilizzabile come Jacob Andiamo bene a vedere lo specifico Eve in questo suo trailer proprio a lei dedicato Innanzitutto, così molto sante da dire Eve è la più giovane dei gemelli Uffray Nonché sempre un maestro assassino E diciamo a differenza di Jacob Eve porta i termini ai suoi piani Con la stessa minuzionità e precisione con cui elimina i suoi nemici Quindi una ragazza molto più strategica, più minuziosa e più precisa Sempre crudissima, come vediamo qua alcune suoi uccisioni veramente toste e pesanti Però è sempre una ragazza molto minuziosa, molto precisa A differenza di Jacob che è molto più uno da lotta uno contro uno Quindi lotta con pugni e tutto Jacob ha uno stile di lotta molto più risuoso, stato definito Mentre Eve molto più strategica, con armi molto più delicate e precise come andremo a vedere adesso Infatti la prima arma ragazzi è il bastone animato Che è un elegante e letale arma del periodo vittoriano Molto tipica del periodo vittoriano Arma molto bella, molto devastante come potremo vedere qua bene nel video Con cui diciamo veramente un'arma da corpo a corpo Però veramente massi devastanti come possiamo vedere Poi vi sono i classici coltelli da lancio Anche questi molto interessanti perché sono leggeri, veloci, precisi E come li utilizza Eve quindi con grande astuzia e tutto Possono uccidere tutti i nemici circostanti E li possono perfino anche distrarre Perché ovviamente lanciano un coltello in giro Poi distrariamente i tuoi nemici E niente ragazzi Questo qua era il trailer di presentazione diciamo della nostra Eve Spero che vi sia piaciuto e interessante Fatemi sapere cosa pensate di questa possibilità di utilizzare sia Eve che Jacob Fry E niente Ci vediamo presto con un prossimo video Ciao Ciao